Commissario De Dominicis, Parco della Costa Teatina, ci siamo ormai? Beh sì, direi che è fatto, nel senso che mi ero dato il tempo del 30 di aprile di concludere il mio lavoro, avevo un anno di tempo, quindi scadeva nell'agosto del 2015, l'ho fatto con un po' di anticipo, ma consapevole del fatto che 14 anni erano stati sufficienti per aspettare un parco, quindi penso di aver fatto un buon lavoro, ascoltando gli attori del territorio, dai sindaci, le amministrazioni, le associazioni di categoria, ho cercato di raccogliere il più possibile le loro indicazioni e presentare un parco, che io ho definito un parco possibile, perché insomma ci sono delle posizioni che io ho rispettato di no parco. Prossimo obiettivo adesso, quale sarà? Per il parco è quello del decreto del Presidente della Repubblica, che certifica la formalizzazione, formalmente ne certifica la istituzione, dopodiché il Ministero dell'Ambiente dovrà nominare gli organismi, che sono le otto persone che dovranno gestire il parco, il comitato di gestione, chiamiamolo così, le otto persone, quattro delle quali sono espressioni del territorio, quindi presumo quattro sindaci, quattro assessori, quattro amministratori, uno rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che saranno espressioni dell'associazione delle agricole, poi uno del mondo ambientalista, uno dall'ISPR, insomma otto persone, più un Presidente e anche un Direttore, cioè la struttura di tutti i parchi, anche questi dovranno poi lavorare per un piano di sviluppo, per capirci un piano regolatore del parco, e quindi avviare tutte e garantire tutto lo sviluppo che questo territorio merita con un parco.